Ancora chiuso Parco Comolaricci, un punto nevralgico per i collegamenti della città di Napoli. Di fatto però questi lavori sono iniziati soltanto da due giorni. Andiamo allora a sentire che cosa ne pensano i residenti e i pedoni. Da due anni dobbiamo salire o da sopra, da Via Tasso, oppure da Mergellina. Quindi un fastidio anche per i residenti del parco. Sì, molto fastidio, perché era comodissima questa strada. Vabbè, speriamo che ora l'aggiustano, ora che sono iniziati i lavori. Grosso fastidio anche per chi lavora come me, che comunque svolge un lavoro in cui spesso capita che devo salire in questo parco. Ho sempre problemi sia io e soprattutto i clienti, che a volte stando con la macchina devono necessariamente entrare a Via Tasso e fare tutto il giro da Mergellina fino ad arrivare a Via Tasso, scendere a Parco Comola e dover poi risalire a Parco Comola. E ritornare a Mergellina. Il parco è chiuso da due anni, ma di fatto i lavori sono iniziati soltanto due giorni fa. Sì, sono iniziati due giorni fa e speriamo che nell'arco di un mese a massimo riescano a risolvere il problema. A spiegarci le cause reali che hanno determinato lo stallo dei lavori è il geometra dell'impresa appaltatrice, Remigio Grombone, il quale assicura un ripristino dell'aria in tempi brevi. Saremo a breve incaricati per togliere questo fastidio. Quanto tempo? È tipo un mesetto di tempo. Da due giorni sono iniziati i lavori? Sì, da due giorni. Stiamo allestendo il cantiere e mettendo tutto in sicurezza per i piani di sicurezza e le varie disposizioni. Anche se il parco è chiuso da due anni? Il parco sì, sono circa due o tre anni. Come mai solo adesso si iniziano i lavori? È perché non si sono messi d'accordo i 1500 condomini del parco, i 1500 famiglie, mi sembra, dei residenti e grazie all'avvocata Lodi si è proceduto a fare un comitato che disse il placet per questi lavori che poi saranno a danno della Steg, una società che detiene la strada, è acquistata e non ha mai provveduto alla manutenzione. E i cittadini si sono fatti carico di questi lavori tramite il Tribunale, con l'ordinanza del Tribunale.